Gioacchino Ricotta, già capitano della Real Maestranza nel 2012, è il nuovo presidente dell'associazione intercategoriale Artigiani Nisseni, associazione nata nel 1995 con lo scopo di proteggere e valorizzare l'immagine e la personalità di tutti i capitani, nonché di gestire attività socioculturali e religiose. Ricotta, eletto a scrutinio segreto dagli altri capitani emeriti della Maestranza, prende il posto dell'ex presidente, Cavaliere Gaetano Riggio, scomparso improvvisamente lo scorso mese di luglio. In effetti, trovarmi qui a parlare proprio di questo fatto è una cosa dolorosa, perché mi trovo qui proprio perché è venuto a mancare il Cavaliere Ufficiale Gaetano Riggio, che è stata l'anima portante di questi quasi 20 anni di vita dell'associazione Ayan, che è nata come supporto alla Real Maestranza e per la valorizzazione della figura dei capitani. Il Cavaliere Riggio, Gaetano Riggio, Cavaliere Ufficiale, aveva portato avanti questa figura di capitano nella maniera più egregia possibile, perché non è stato solo un capitano di quell'anno, ma è stato un capitano che si è tramandato però oltre, è andato oltre. Quindi già parlare di questo a me mi duele perché lui non c'è più e io non posso certo essere, come dire, o mettermi in competizione con lui. Farei la cosa peggiore possibile. Io ho la mia caratteristica, non ho le sue capacità che aveva e quindi tutti i capitani, che ringrazio anticipatamente, mi hanno preferito. E quindi la mia sensazione è stata, come ho detto, doppia, perché fra l'effetto, l'affetto che mi hanno dimostrato e quindi la fiducia che mi hanno dimostrato, che io spero di poter ricambiare, ma anche il dolore del fatto che proprio questa figura da fare è a sostituzione di una persona che non c'è più e che ha dato tanto e forse anche la vita, non lo so, ma anche molto della sua vita e forse quasi tutta, all'area amministanza e all'Associazione dei Capitani e all'area amministanza. L'Assemblea dei Capitani Emeriti ha inoltre eletto gli altri componenti del nuovo direttivo dell'Associazione. Vicepresidente Giuseppe Giordano, che è stato capitano nel 2009, segretario Roberto Di Dio, capitano nel 2013, consiglieri Pasquale Tramontana, capitano nel 1998 e Angelo Iannello nel 1991. Confermati Presidente Onorari Francesco Rigio e Pasquale Majorana, capitani rispettivamente nel 1979 e nel 1994.